parliamo oggi del topolino 34 57 iniziamo amici bentornati sul canale bentornati su recenso alla videorubrica di libri fumetti manga film e telefilm oggi parliamo quindi di questo numero del topolino che come vedete continua a avere un po queste pagine flosce poca voglia di vivere sto scherzando il nuovo modo con il quale vengono stampati i topolini e quindi anche il nuovo tipo di carta e ovviamente anche il nuovo prezzo ma abbiamo parlato nella puntata precedente se volete sapere cosa ne penso andate a recuperare la puntata della settimana scorsa passiamo quindi a parlare delle storie e poi dei disegni la prima storia che troviamo è topolino e le sgamba scarpe smart topolino viene raggiunto da minni perché devono aiutare una sua amica influencer a pubblicizzare un nuovo tipo di scarpe queste scarpe sono molto smart e quindi riescono a conciliare la voglia di tecnologia e anche la necessità di essere sempre in forma e quindi con una buona attività fisica e il ragionamento di fondo inizialmente di questa storia è incentrato proprio su questa bella dicotomia che funziona benissimo soprattutto per i toni esagitati ed esaltati che vengono fatti dalla influencer e ovviamente anche da minni spronando così i follower di questa loro amica ad acquistare le scarpe presentandoci anche al tempo stesso un po il mondo sporco e cattivo e brutto di come funziona la promozione online e ovviamente anche gli accordi e le collaborazioni con le aziende ci rido sopra perché ovviamente topolino ha un po di puzza sotto al naso e quando le cose iniziano a complicarsi per questa loro amica inizia a indagare non si sa trattenere e scopre così alcune magagne che ci sono sotto ovviamente questo è solo il primo episodio primo episodio che si tronca proprio nel momento in cui topolino è in pericolo non c'è quindi altro granché da dire se non che è un buon ritmo viene raccontata in maniera abbastanza lineare per cui aspettiamo la settimana prossima e poi eventualmente daremo un giudizio torna il papersera con papersera news presenta lo scuro mistero dello specchio riflesso pensavamo che gli eventi della settimana scorsa nella doppia storia che abbiamo trovato in quel numero fosse finita invece quello che è accaduto lì si protrae ancora nel tempo in questi altri due episodi infatti ritroviamo ancora una volta a generaldo che viene finalmente arrestato e quindi paperino e paperoga vanno in carcere a interrogarlo riesce poi anche a fuggire a iniziare quindi a mettere di nuovo in moto un suo strampalato piano un piano che è sempre molto tinto di mistero ma che è sempre anche in contrapposizione col modo di fare di paperoga infatti paperoga eredita dalla narrazione precedente questa sua astrazione mentale perde il contatto con la realtà e inizia a vagare con la mente questa serve anche a passare quindi da un personaggio all'altro da una narrazione all'altra in maniera molto più fluida coinvolgente e comica mentre ovviamente paperino rimane quello un po più fisso con i piedi per terra e che segue con maggior interesse e anche veridicità la indagine la storia è veramente particolare mi è piaciuta moltissimo è un po strano vedere queste doppie puntate che si collegano l'una con l'altra però il tutto ha un grado molto gradevole di piacevolezza nella lettura ed è una vicenda che viene quindi raccontata con una certa organicità anche se come abbiamo visto nella puntata precedente nella doppia puntata precedente anche in questo caso poi quando si arriva al clou e al momento in cui la realtà viene finalmente spiegata e mostrata per quello che è soprattutto attraverso la narrazione di questo custode le cose iniziano a diventare forse un po troppo frettolose quindi tutti gli inciampi gli impedimenti e le cose difficili da risolvere diventano invece di una facilità incredibile forse anche attraverso il modo stesso di fare dei personaggi però è una storia che mi è piaciuta funziona e ancora una volta sembra darci il là a un qualcosa che dovrà accadere in futuro staremo a vedere però nel frattempo ditemi voi queste puntate che vanno così per le lunghe che in realtà non sono autoconclusive ma appunto raccontano una storia dosata su più volumi vi sta piacendo ce ne sono troppe si sta allontanando un po troppo da quello che è la natura iniziale del topolino dove ogni storia raccolta si concludeva e c'era quella ogni tanto che andava invece a puntate ditemi la vostra pippo spot ridere di gusto torniamo quindi a vedere pippo nella sua attività di pubblicitario e lo vediamo quindi con altri due clienti che hanno completamente due lavori diversi problemi diversi ma ovviamente conosciamo benissimo il personaggio e quindi sappiamo anche bene come con cose che non ci azzeccano niente l'una con l'altra lui riesce a fonderle a ribaltarle a girarle come un calzino e a trovare una soluzione molto creativa divertente a cui nessuno aveva mai pensato in realtà la narrazione non ha nulla di originale non c'è nulla che sembra raccontare qualcosa di nuovo cambiano i lavori quindi cambiano i pretesti però sostanzialmente la narrazione è quella il che non significa che non sia comunque piacevole ma anzi è un bel una bellissima narrazione poi aiutata da un disegno piacevolissimo e lo vediamo dopo l'ultima storia che troviamo è zio paperone e l'aquila di zeus ed è una storia che in parte serve anche a commemorare e a ricordare uno dei due autori pat mcgrill che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno e la moglie ha continuato quindi questa storia come se fosse appunto un tributo e un saluto al marito ad aiutarli poi c'è anche cavazzano nel disegno ma questo lo vediamo dopo paperone è in un museo e sta per esporre una delle sue ricchezze più importanti che è un uovo quaker g ma non è il solo e viene quindi a contatto con due suoi acerimi nemici la narrazione è divertentissima sembra di tornare veramente indietro nel tempo per come è strutturata questa storia perché appunto troviamo un nemico che rimane a complottare nel mistero e nell'ombra di cui quindi tutti e tre i personaggi principali paperone e i suoi due rivali non si rendono conto della presenza e non sanno come a quindi smascherarlo ma al tempo stesso è anche una storia di un viaggio un viaggio che forse è troppo repentino troppo rapido e veloce e quindi salta da un punto e all'altro del pianeta però allo stesso tempo taglia corto su evidentemente qualcosa che andrebbe a disturbare questo ritmo così incalzante coinvolgente e quindi una storia da tratto vintage tipico di questi due autori pat e carol mcgrill che quindi nella loro semplicità nel modo così genuino e da altri tempi di raccontare una vicenda riescono comunque a creare un buon impianto e a farla risaltare praticamente in ogni movimento dei personaggi in ogni intreccio della narrazione e poi ovviamente la parte finale di questa storia sembra veramente tanto un saluto e un tributo allo scomparso autore copertina veramente bellissima siamo di nuovo ancora una volta alle prese con una copertina molto moderna come resa soprattutto dei colori e il fatto che qui siano rappresentati topolino e migni con una linea così morbida e delicata e con i colori che quindi aiutano nella saturazione a leggere meglio questi piani e quindi la profondità della scena è una copertina che veramente mi piace tanto e parlando del disegno delle sgamba scarpe smart possiamo dire che nonostante non riesca a essere fedele alle anatomie e soprattutto alle fisionomie del volto di topolino ha comunque una linea molto interessante e particolare che nella sua pulizia riesce ad aiutare anche il lettore a scandagliare gli spazi e le profondità di ogni vignetta il tono che abbiamo visto così entusiastico dell'influencer viene trasportato nella narrazione per immagini attraverso quindi le espressioni e anche le posa il modo concitato con il quale viene raffigurato questo personaggio rendendolo così molto credibile probabilmente le scene che hanno più movimento più dinamismo con la linea sono verso la fine della vicenda quando topolino si mette in pericolo e quindi vediamo questi scorci paesaggistici queste scene con una linea che quindi inizia a mediare nello spessore per raccontare quindi appunto la lontananza e la vicinanza degli oggetti rispetto a chi guarda per quanto invece riguarda il paper sera nulla di nuovo nulla di diverso torna quindi questa linea così morbida e particolare in questa raffigurazione di uno stile che mastantuono vuole dare alla narrazione che quindi noi ci aspettiamo quando si parla del paper sera con delle fisionomie dei volti ma anche stesso i volumi che riesce a creare all'interno delle vignette per i personaggi nonostante vi siano quindi poche linee a raccontare gli sfondi queste riescono a dare comunque una buona dose di dettagli senza appesantire la lettura di ogni vignetta di ogni scena addirittura lì dove le scene iniziano a sembrare forse un po più bucoliche c'è comunque la possibilità e la capacità di una lettura immediata e semplice di ogni elemento per pippo spot continua a esserci questa linea così bella pulita morbida che sembra alle volte ricordare e quasi simulare perché è ispirata a quella di mastantuono ma ovviamente è un mio pensiero ma comunque coppola che lo disegna non si discosta da questi canoni creati dal collega e quindi ci presenta dei personaggi che hanno una bella presenza scenica quindi dei bei volumi e allo stesso tempo sono caratterizzati fin nei minimi particolari con poche linee ma comunque sembrano veramente veritieri e fu riuscire dalle vignette la combinazione di questa linea con la colorazione e le ombre ci portano così a un disegno molto dettagliato ma comunque semplice da leggere e che quindi risulta molto godibile a differenza di quello che abbiamo magari visto in passato con la coppia McGrill il disegno stavolta è offerto da Cavazzano e quindi si discosta un po' da quello stile così classico e veramente molto vintage per assumere così un stile molto più moderno ma in questa modernità ovviamente non perdiamo il gusto e la bellezza delle fisionomie classiche dei personaggi ciò che ne guadagnano quindi è sicuramente una presenza scenica e tridimensionale in più aiutati ovviamente dalle ombre e sicuramente anche dalla posa che prendono i personaggi nelle scene particolari sono anche le scene più concitate di combattimento in volo che hanno veramente tanto un sapore di quella narrazione di un tempo di cui vi dicevo prima ma in particolar modo forse proprio l'ultima vignetta nell'ultima tavola a essere quel tributo quel saluto all'autore scomparso perché è una scena molto romantica nostalgica molto particolare fine e delicata veramente bellissima e suppongo che questa combinazione sia nata proprio dopo la morte dell'autore stesso e quindi con questa storia possiamo anche tornare a un anno fa e salutare McGrill questo è quello che penso di questo numero del topolino mi raccomando fatemi sapere voi la vostra qui sotto nei commenti cosa vi è piaciuto e cosa no se poi questa puntata vi è piaciuta fatemelo sapere con un bel mi piace condividendola con i vostri amici iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto attivando anche la campanella al lato mi raccomando fate visita a tutti i social network che sono qui sotto nell'info box passate anche soprattutto su www.retrattinocenso.it iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziali io sono dario questa è recenso e noi ci vediamo lunedì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronte a sfogliare un nuovo topolino e volare insieme nel mondo della fantasia disney ciao